Mario non avevi mai segnato in Serie B, ne hai fatto addirittura due, la prima doppietta in carriera Eh non so se preoccupare, perché magari mi sono giocati tutti stasera No a parte di scherza, sono contento, ma soprattutto contento per la squadra e per la prestazione che ho fatto E una dedica speciale possiamo dire, abbiamo visto Sì sì sì, si è una dedica speciale, ci voleva omaggiare Per il secondo figlio possiamo dire, senti per adesso sei tu Super Mario o come stai vedendo invece Ballotelli in allenamento? No, Super Mario è luglio, io faccio il mio Bene, bene, sta lavorando per tornare in forma e ci darà sicuramente una mano Una grande reazione dopo la sconfitta di Reggio Emilia, la vittoria di Venezia Questo sembra la strada giusta per la squadra Assolutamente, è importante dare un segnale, lo stanno dando e dobbiamo dare continuità su queste prestazioni Quanto è importante